Dopo la recente smentita ufficiale riguardante la sua presunta uscita dal programma, Tina Cipollari è di nuovo al centro dell'attenzione sul web, ma questa volta per le prospettive della sua carriera lavorativa, emergono nuove indiscrezioni riguardo al futuro dell'iconico volto di uomini e donne. Nonostante il chiarimento sulla sua permanenza nel programma, Tina sembra avere in serbo nuove opportunità per la prossima stagione televisiva. Secondo quanto riportato da alcune fonti, potrebbe essere previsto per lei un coinvolgimento più ampio. Pare che un suo possibile progetto futuro possa essere la conduzione di un programma tutto suo sulla 5, sebbene al momento si tratti ancora di speculazioni. Alcuni suggeriscono persino l'ipotesi di un nuovo spin-off legato ad uomini e donne, ma al momento queste voci non sono state confermate ufficialmente. Sarà necessario aspettare ancora un po' di tempo prima di avere certezze? Forse finché qualcuno non si deciderà a fare chiarezza su queste circostanze. Tuttavia, c'è una certezza. Tina Cipollari farà ritorno nel ruolo di opinionista o giurata. Nel caso in cui la notizia venisse confermata, non sarebbe la prima volta che Tina si trova al timone di un programma televisivo. Nel lontano 2005, infatti, ha già presentato una trasmissione chiamata Vipmania per alcune emittenti locali. Successivamente, si è allontanata dal piccolo schermo per un periodo di tempo, dedicandosi alla sua famiglia. Resta da attendere alcuni mesi ancora per vedere come si svilupperanno effettivamente le cose. Lascia la tua opinione nei commenti. Iscriviti e metti un bel mi piace al video. Per noi è importante. Grazie. Ci vediamo nel prossimo video.